Ciao a tutti appassionati di orologeria ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove oggi andremo a parlare di un orologio iconico del Field Watch per eccellenza cioè l'Hamilton Khaki Field. Nella referenza in mio possesso c'è quella con il quadrante Silver. Questo video spero possa esservi utile qualora state pensando di acquistare un Hamilton Khaki Field e avete visto nel catalogo anche l'esistenza di un quadrante diverso dal nero e anche diverso dal beige perché ci sono anche altri quadranti chiari ed è credo l'unico Silver all'interno del catalogo e quindi volete un po' capire le differenze visto che la maggior parte degli utenti acquista quello con il quadrante nero. Ed il perché io abbia scelto questa particolare referenza è presto detto oltre alla mia predilezione per i quadranti chiari è indubbiamente la dimensione della cassa 38 mm che è unito al peso super contenuto di 64 grammi e dallo spessore quasi ridicolo della cassa lo rende un orologio spettacolare per l'utilizzo quotidiano su qualsiasi tipo di abbilamento sia del più elegante al più casual per polsi anche più piccoli del mio che da 17 cm beh lo trovo veramente un orologio eccellente unito anche al movimento ETA molto preciso molto robusto montato all'interno e di tutto perché cosa per circa 545 euro prezzo di listino riusciamo a strapparlo via anche a 500 euro con lo sconto della nostra gioielleria di fiducia insomma lo rende probabilmente il best buy l'orologio da avere assolutamente all'interno della collezione anzi facciamo un gioco fatemi sapere nei commenti scrivetemelo se avete un Hamilton e quale Hamilton avete in collezione sono sicuro che ne avrete tantissimi saranno tantissimi di voi quelli a rispondere quindi ci saranno tantissimi commenti con le diverse referenze e di diversi colori ma adesso andiamo a a scoprire più nel dettaglio il mio Hamilton khaki field automatic e diamo uno sguardo più ravvicinato al mio Hamilton khaki field che originariamente viene consegnato con quest'altro cinturino questo marrone scuro quasi vinaccia che è in vacchetta naturalmente il cinturino sostitutivo che utilizzo per l'estate è sempre un originale Hamilton sono dei cinturini di qualità veramente eccellente seppur questo che viene consegnato con l'orologio è un po rigido infatti io lo uso come cinturino prettamente invernale vediamo la fibbia vedete la clasp personalizzata Hamilton che sono veramente dei buonissimi cinturini per l'estate invece ecco perché oggi ho voluto girare anche il video dell'Hamilton ho installato il cinturino sempre originale come vi ma in pelle scamosciata vedete sono sempre cinturini di ottima fattura di ottima qualità in questa versione è un po più morbida e secondo me ci sta molto meglio con l'abbigliamento più casual più estivo anche in questa versione abbiamo vedete la clasp la fibbia personalizzata Hamilton molto più morbido questo in pelle scamosciata è veramente lo trovo più comodo per l'estate ora passiamo all'orologio la referenza che vedete è un po diversa dal solito mi discosto sempre no invece di acquistare il classico quadrante nero ho preferito la versione silver la referenza è la h70455553 è sempre un 38 mm di diametro il lag to lag di 47 mm abbiamo 20 mm di passo del lanza ed una altezza di 10,5 mm il tutto rende l'orologio al massimo della sua portabilità anche su polsi piccoli il mio è un polso da 17 cm questa dimensione sia come dimensione di cassa sia come lag to lag ma soprattutto come spessore di cassa nonostante sia un automatico lo rende veramente comodissimo da portare è il fatto che io abbia scelto la versione con il cinturino per ovvi motivi come sapete dei miei polsi ultra pelosi rende anche l'orologio leggerissimo pensate un po solamente 64 grammi con tutto il cinturino invece al posto del bracciale quindi un orologio che praticamente una volta indossato ragazzi credetemi non lo sentirete nemmeno al polso perché veramente vi dimenticherete di avere un orologio indossato veramente leggerissimo fantastica questa versione con cinturino poi chiaro se vi piacciono le versioni braccialate per davvero pochi euro in più potete avere l'orologio completo di cinturino ed eventualmente acquistare l'orologio in aftermarket ricordo il prezzo di questa referenza prezzo di il sino 545 euro ma chiaramente con qualche sconto che offre il concessionario si riesce a portare a casa con qualche euro in meno anche arrotondando a 500 euro il vetro ha una sottile bombatura ve la faccio vedere qui nel dettaglio che non va ad influire tantissimo sullo sullo spessore finale ma che non è trattato ora il fatto di non essere trattato antiriflesso è vero che elimina un po in quell'effetto di luce blu no quando lo giriamo verso la luce ma guardate un po alla minima vedete alla minima fonte luminosa o anche in assenza di fonte luminosa fa praticamente da specchio quindi riflette veramente tanto è vero anche che questa tipologia di vetro seppur non piatto e senza trattamento rende la leggibilità del quadrante davvero ottima ora leggibilità ragazzi è chiaro la versione silver secondo me visto che sono state lasciate le sfere che sono identiche a quelle dei quadranti scuri secondo me la leggibilità va un po a calare è sicuramente inferiore rispetto a quello con il quadrante nero ma guardate l'effetto di tridimensionalità che offre il quadrante visto che come tutti i khaki field abbiamo questo quadrante un po particolare diviso in cerchi vedete abbiamo questo disco centrale poi abbiamo un primo cerchio che racchiude i numeri arabi delle ore e in più l'ultimo cerchio quello più esterno dove abbiamo invece i secondi e la divisione insomma per cinque secondi la differenza principale rispetto alla versione col quadrante nero è quella di non avere il super luminova sui numeri arabi è un quadrante come sempre un po affollato è per i più questi sono quadranti un po affollati seppur affollato sì ma ordinato ok diciamo così è affollato ma ordinato quindi abbiamo nel disco centrale la divisione delle ore pomeridiane ore 12 abbiamo il logo emilton tutto molto molto piccolo ragazzi e mentre ore 6 abbiamo la dicitura khaki e poi automatic poi abbiamo il disco un po più esterno quello con i numeri arabi delle ore ed abbiamo anche a ore 3 la complicazione della data sempre con caratteri neri e sfondo bianco quindi secondo me si sposa benissimo perché mantiene la simmetria del quadrante silver bianco dello sfondo della finestra data ed i numeri neri così come sono neri i numeri sul quadrante fino ad arrivare poi al disco più esterno quello dei cinque secondi che contiene solamente i pallini del super luminova ora come vi dicevo non abbiamo una grandissima legibilità in condizioni di scarsa luminosità mentre le versioni con il quadrante nero hanno tutti i numeri arabi che sono riempiti di super luminova comunque molto luminoso ma che dura pochino qui abbiamo il super luminova sulle sfere di ore e minuti e sui pallini che vanno a contraddistinguere le ore ok solamente lì in più che cosa c'è di diverso sul quadrante silver rispetto al nero che la sfera dei secondi eccola possiamo vedere in questo momento passare al centro del quadrante vedete quel centro di inquadratura abbiamo una sfera dei secondi che ha la punta con una freccia bianca riempita di super luminova al posto della sfera dei secondi con la punta a freccia rossa che è un po contraddistingue il quadrante nero e la punta della sfera dei secondi è riempita anch'essa di super luminova quindi al buio possiamo vedere sfera di ore e minuti sfera dei secondi e i pallini che contraddistinguono l'orario anche qui chiaramente la durata della luminosità notturna è un po limitata le anze sono ricurve così come la caratteristica di questo orologio la cassa è in acciaio 316l spazzolata tranne la lunetta che contraddistingue sempre il modello invece che vedete è lucida quindi comunque molto bella l'estetica di questo orologio è inconfondibile a qualsiasi polso anche a distanza riconoscerete che è un hamilton khaki fill quindi il fill watch della casa americana veramente fantastico e riconoscibilissimo la corona è a pressione non è a vite ed è di facile impugnatura sia per la ricarica dell'orologio sia per l'estrazione ed andare a regolare la data e le ore il movimento e lo faccio vedere è fluidissimo e del movimento ne parliamo fra un attimo naturalmente abbiamo anche l'acchi dei secondi l'abbiamo visto adesso abbiamo bloccato l'orologio continuiamo a parlare della corona e terminiamo dicendo che è una corona che ha delle zigrinature ed in più andiamo di riuscire a mettere a fuoco la corona eccola qui la corona delle zigrinature ed in più c'è il logo di emilton messo qui in risalto sulla lucidatura della corona appunto il fondello è un fondello trasparente che mostra il fantastico calibro ribattezzato h10 di emilton in realtà diciamo è un eta c07.111 che è derivato dall'eta 28-24-2 in personalizzazione di eta che chiaramente insieme ad emilton fanno entrambi parte del gruppo swatch quindi crea questo movimento personalizzato ad hoc per emilton possiamo vedere la massa oscillante vedete personalizzata non solo nella serigrafia fatta a laser ma proprio intagliata con il logo emilton molto molto bello vedete forato parliamo al volo del calibro quindi 25 rubini 80 ore di riserva di carica in questa versione realizzata da eta per emilton 21.600 alternanze ora ragazzi che dire è un movimento molto 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 preciso io mi sono attestato con le mie regolazioni a meno 7 secondi al giorno che vi lascio i dati qui in sovrimpressione che ho rilevato con il crono comparatore il fondello chiuso a vite insieme alla corona che non è a vite messo la pressione garantisce una resistenza all'acqua fino a 100 metri quindi insomma abbastanza se abbiamo un cinturino adeguato per farci una doccia per lavarci le mani insomma chiaramente da evitare non è un diver quindi da evitare immersioni ed ecco la prova polso ci tenevo anche a mostrarvi il cinturino in pelle scamosciata per mostrarvi quanto si sposa bene con questo quadrante guardate 38 mm e con un lug to lug di 47 guardate su un polso da 17 cm quanto sta bene vedete anche fantastico per essere indossato in qualsiasi occasione quindi siano benvenute le camicie siano benvenuti i maglioncini ed anche perché no qualche felpa in base al cinturino lo potrete indossare davvero ogni giorno oppure dai anche alternarlo a qualche altro orologio tanto abbiamo una riserva di carica da 80 ore che vi permetterà di non doverlo ricaricare ogni giorno un particolare quello vedete sul riflesso della luce nonostante le luci siano lontane guardate come si crea questo effetto specchio però è vero anche che la leggibilità è comunque molto buona nonostante abbiamo le sfere che sono quasi la stessa tinta del del quadrante quindi sì se andiamo un po a cercare il pelo nell'uovo secondo me la leggibilità è migliore nei modelli con il quadrante nero rispetto a questo con il quadrante silver però il quadrante silver credo che lo renda un pelino più elegante rispetto al nero poi eventualmente fatemi sapere nei commenti anche voi cosa ne pensate ed eccoci rientrati cosa dire per quanto riguarda le considerazioni finali se non che questo è un orologio straconsigliato quando c'è un amico che mi chiede quale orologio posso acquistare con un budget intorno ai 500 euro beh è difficile non consigliare un Hamilton ed è soprattutto difficile non consigliare un khaki field nel momento in cui piaccia l'orologio solo tempo e non un cronografo perché poi comunque a listino ci sono anche i diver ci sono anche i cronografi ma è chiaro che l'Hamilton khaki field è proprio l'icona del brand ragazzi come sempre spero che il video possa esservi piaciuto e possa esservi stato utile in tal caso un like lo sapete sempre gradito e se siete nuovi nel canale e dei contenuti dovessero piacervi solo quel momento ricordate di iscrivere e di attivare la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video ed io chiaramente vi lascio in descrizione qualche link da Amazon a questa referenza o comunque anche la referenza col quadrante nero qualora dovesse piacervi di più e vi do appuntamento alla prossima puntata sì prossimo video ciao a tutti dal vostro Bruno